Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti al secondo incontro della quinta edizione del fare in una stanza. Allora per questa edizione abbiamo dovuto fare diverse rinunce nel senso che il programma era come al solito articolato su tre giornate e con tanti ospiti da tutta Italia, vista la situazione non c'è bisogno di spiegare il perché, abbiamo dovuto tagliare molti degli interventi e rinunciare a molti degli interventi. Questo però è uno di quelli a cui non abbiamo voluto rinunciare per diversi motivi. In primo luogo perché l'argomento appunto accostare Virginia Woolf a quello che accade, sta accadendo, è accaduto nel nord della Siria, in Rojava, ci ricorda che esistono strade alternative alle classiche democrazie occidentali che a volte vacillano come abbiamo visto proprio di recente e poi in questo contesto ci aiuta a ricordarci che non c'è solo il Covid e con questo non voglio essere negazionista e ormai la frase non si muore solo di Covid è diventato uno stereotipo, non intendiamo ovviamente questo però intendiamo portare l'attenzione anche su quello che continua a succedere a succedere in tutto il mondo e ci sembrava importante farlo. L'idea di trattare questo tema, quindi di affiancare Virginia Woolf con le tre guinee alle donne rivoluzionari del Rojava nasce in realtà da un mio studio che avevo portato a un convegno, però un convegno di specialisti dell'associazione anglistica, quindi insomma proprio una roba da specialisti, però questo mio intervento aveva raccolto un particolare interesse proprio di Nicoletta Vallorani che era stata così generosa da addirittura condividere il suo apprezzamento con amici e su profilo, insomma qualcosa di insolito e Nicoletta Vallorani siamo state felici di averla come ospite per questo dialogo, ci è sembrata la persona più giusta per fare questo dialogo oggi, per chi non la conoscesse Nicoletta Vallorani è professoressa ordinaria all'Università Statale di Milano, però è anche scrittrice, traduttrice, esordisce nel 1993 con un romanzo cyberpunk che vince il premio Urania e poi pubblica con grandissimi editori, da Mondadori a Inaudi, passando anche per editori indipendenti. I suoi romanzi e i suoi racconti sono tradotti anche in Francia, per dire un editore gallimar, insomma proprio non l'ultimo degli stupidi, ed è autrice ovviamente per il suo lavoro più accademico anche di numerosi saggi, mi viene in mente quello più recente su Conrad, correggimi se sbaglio Nicoletta, non ricordo se poi ce n'è uno ancora più recente. No no, l'ultima monografia è quella, poi ci sono stati, insomma è stata una produzione un pochino più disagistica, forse più legata al genere di ragionamenti che magari faremo in questa sede, nel senso più legata ai gender studies, piuttosto che al senso a questa cosa che mi preme molto, che era poi il motivo per cui il tuo contributo mi aveva colpito moltissimo, e cioè qual è il legame tra lo studio, la ricerca specialmente letteraria e la vita, nel senso che io personalmente come studioso non sono mai riuscita a scendere le due cose, però mi sembra che ci sia una crescente tensione verso, una scendenza verso questa convinzione che le humanitist non servono, no? Spesso in situazioni di emergenza, come stiamo aggando adesso, le scienze umanistiche non servono. In realtà è proprio allora che servono, un po' lo dimostravano anche le ultime battute del discorso di Caroline Patei, quando appunto rispondendo a una domanda faceva riferimento appunto alla reazione di Wolf alla malattia, all'esperienza della spagnola, che forse è il tipo di pandemia che è stata più accostata a quello che stiamo vivendo ora. Questa cosa qua però succede di rato, cioè succede di rato che uno studioso, specialmente uno studioso giovane, quale sei tu, arrivi in un contesto così paludato, perché questi convegni sono vetrine in cui appunto uno studioso deve far vedere quello che sa fare, arrivi e abbia questo coraggio di prendere un mostro sacro della respiratura, un profilo così difficile da avvicinare, non perché sia difficile insieme, ma perché siamo tutti anche gli studiosi d'esperienza spaventati dalla mole critica, dal peso critico insomma che si appoggia su questo personaggio, tu invece hai preso questo personaggio e l'hai affiancato a qualcosa che appartiene prepotentemente alla realtà, tu che sarò da qui, c'era fatale che io venissi a sentirti, poi temevo che mi deludessi e non mi hai delusa affatto, per cui poi da lì è nato un po' tutto, che è anche una cosa che la dice molto lunga sulla funzione che hanno gli scritti di Wolf, penso che sarebbe anche piaciuto. Sì, assolutamente, verissimo. Beh, allora direi brevemente di cosa si occupava questo mio intervento per farvi capire un po' qual era la mia idea alla base e poi discuterne con Nicoletta. Dunque, io sostenevo che ci sono una serie di punti in comune tra quello che Virginia Woolf sostiene nelle Tre Guinée, cioè tra le idee che Virginia Woolf propone per una società più equa e soprattutto le idee che propone Woolf per fermare la guerra e fermare, cioè prevenire la guerra e fermare l'avanzata dei nazifascismi. E quello che ho visto, ho letto, mi sono informata, eccetera, ho visto fare alle donne del Rojava. Il Rojava è, meglio no, è nota come Rojava, ma sarebbe l'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, quindi una confederazione di stati, de facto perché non è riconosciuta dal governo siriano né dagli altri governi e siccome il governo turco considera il partito che ha fondato tutta questa confederazione di stati come terrorista per azioni che sono state svolte in passato, per cui il fondatore del partito è attualmente ancora in carcere, la Siria continua a fare guerra a questi territori, però cosa hanno fatto di grandioso? In realtà le persone che hanno gestito questi territori sono riuscite a liberarsi dall'invasione dell'ISIS soprattutto tramite l'autodifesa, che loro chiamano la difesa della rosa, cioè il concetto che non si deve attaccare ma ci si deve solo difendere e non ci si deve difendere in nome di uno stato, di una patria, ma in nome della libertà personale. La Costituzione del Rojava poggia su quattro pilastri fondamentali, tanto appunto hanno fatto una Costituzione che noi diamo spesso per scontato, la nostra Costituzione in Italia, ma è fondamentale, avere uno Stato democratico con una Costituzione che ne detta le leggi e i diritti di tutti i cittadini non è assolutamente scontato, tanto che appunto quando il Rojava decide di sedersi a un tavolo e creare una Confederazione di Stati scrive la Costituzione che non c'era prima e i quattro punti fondamentali di questa Costituzione sono la decentralizzazione, quindi l'idea appunto non di un unico Stato nazione, ma di una confederazione, l'equità di genere e già avere questo tra i punti principali di una… Poi è il primo che viene dichiarato questo qua, è un sentimento abbastanza sconvolgente. Esatto, in un mondo, in un paese in cui le donne non avevano quasi diritti, ricordiamoci, cioè quando si liberano questi territori si liberano donne che non potevano uscire di casa, non potevano andare al mercato a fare acquisti da sole, insomma era una situazione fortemente patriarcale e poi si parla di sostenibilità ambientale, proprio tra i punti costituzionali a proposito di essere avanti e di tolleranza pluralistica delle diversità, ad esempio la possibilità di studiare e parlare il kurdo che invece era una lingua vietata nei territori. Il punto che più mi interessa ovviamente è quello legato all'equità di genere e i punti chiave che ho ritrovato con il pensiero di Wolf sono soprattutto la lotta al pensiero, alla concezione di società patriarcale, che in Wolf è chiaro e evidente, lei dice chiaramente il germe del nazifascismo sta nell'atteggiamento patriarcale che mangiamo a cena ogni giorno e a pranzo ogni giorno, nel momento in cui c'è una persona che ha più diritti di noi al nostro tavolo, che siede con noi al tavolo, noi impariamo dall'infanzia, dalla nascita che questo è normale, che è normale che qualcuno sia superiore a noi. Poi c'è la critica, Wolf inizia con la critica al concetto di patria, che in realtà lei dice viene usata per formare dei giovani affinché siano pronti ad andare in guerra e rovinarsi, ammazzarsi per il nome di una patria, ma in nome di una falsa, un falso legame di fedeltà, lei dice, tant'è che appunto inserisce l'importanza dell'essere outsider, cioè di essere estrane con la rivoluzionaria idea della fondazione della società delle estrane, perché è importante? Perché le donne, lei dice, non sono schiave di questi falsi concetti di lealtà, di fedeltà, che gli uomini invece subiscono nella propria educazione, nella propria cultura, ma sono libere da queste costrizioni. E poi l'importanza dell'istruzione, l'importanza del pensiero e dell'istruzione. Quello che ho notato è che queste tre pilastri fondamentali ci sono anche nei tre cantoni del Rojava, cioè in quello che hanno fatto le donne per liberare questi territori. Quindi quello che mi interessava vedere non era tanto capire se le donne, le rivoluzionari del Rojava avevano letto Wolf e le Tre Guinée, anzi sappiamo quasi con certezza che non è stato così, tanto che all'inizio delle loro lotte, delle loro rivendicazioni, veniva chiesto loro, ma siete femministe? E loro non sapevano neanche cosa volesse dire il termine. E anche qui ci sarebbe da pensare a come usa Wolf il termine femminismo, che decide di bruciarlo e seppellirlo. Però loro non sapevano neanche di cosa si stesse parlando, perché non avevano una tradizione, non avevano una istruzione corretta a proposito. È arrivata poi, quindi magari oggi sì ci sono delle rivoluzionari che leggono Wolf, ma non è questo che mi interessa vedere. Mi interessava più capire da un lato come l'idea che Wolf sviluppa nelle Tre Guinée non fosse puramente teorica, ma venisse poi messa in pratica da donne che vi erano arrivate per percorsi propri e messa in pratica poteva funzionare, perché queste donne hanno effettivamente fermato l'avanzata dell'ISIS. E quindi questo da un lato mi interessava. E poi mi interessava soprattutto vedere come la lettura di Wolf mi permetteva di comprendere meglio anche quello che stava succedendo in Rojava, cioè comprendere la portata di quello che stava succedendo. Proprio pensando ad esempio al concetto di estrane, Wolf dice come donna, pensiamo al concetto di patria, quando Wolf dice come donna non ho patria, come donna non voglio patria, la mia patria, il mondo intero, se noi lo rapportiamo a quello che sta succedendo in Rojava sul fatto che non hanno voluto creare un solo stato-nazione, ma hanno invece voluto questa confederazione pluralistica in cui le donne potessero avere un ruolo da estrane, alle dinamiche politiche che per forza avrebbero ricalcato le dinamiche patriarcali, allora capiamo la potenza di quello che hanno fatto a mio parere in modo molto più profondo. Ecco, mi taccio perché mi sembra di aver già detto parecchio, però questa era la mia riflessione di partenza. Sì, che in realtà ha funzionato molto bene, nel senso che io quando ti ho ascoltata, in realtà mentre l'ascoltavo facevo esattamente questa riflessione, cioè cercavo di capire come mai, come fosse possibile che ci fossero così tanti punti di contatto tra appunto una scrittrice, un profilo così importante per il modellamento proprio del pensiero delle donne, ma sicuramente risolutamente occidentale, comunque localizzata in uno spazio, in un tempo, definibili come distanti dall'esperienza del Rosara e donne che appartengono al bacino del Mediterraneo, che comunque hanno, arrivano da culture medio orientali e quindi è una formazione completamente diversa, anche un concetto completamente diverso del femminismo, cioè dobbiamo anche ricordare che il femminismo delle donne medio orientali in generale, il femminismo africano è molto basato sull'interazione tra i generi da sempre, dalle origini, cosa che invece non appartiene al femminismo occidentale, che invece nasce come fortemente separatista e in realtà tende anche ad esserlo anche ora tra le ragazze molto giovani che appartengono a collettivi femministi, stanno tornando, notavo tantissimo delle convinzioni e delle pratiche proprio di sorellanza che appartenevano al femminismo agli anni 70. Intendiamoci, va benissimo, però quello che voglio dire è che sono due tradizioni completamente diverse e completamente separate. Allora, alla luce di queste tradizioni così diverse e così separate, noi abbiamo davanti un esperimento che si colloca in uno spazio nel tempo, ovvero come dicevi tu appunto nel nord-est della Siria, al confine con la Turchia, quindi comunque un territorio che è sempre stato un territorio di francese, un territorio difficile nel quale è ancora più complicato, cioè creare un'istituzione democratica. Abbiamo un ideologo che viene appunto imprigionato molto presto, che è Ocalanna e che è etichettato come terrorista e che però dal cui pensiero però nel luglio del 2012 un gruppo relativamente ridotto di persone decide, come dicevi tu, di tirar fuori una Costituzione e di impostare le basi per uno Stato che noi chiameremmo libertario, che in realtà viene definito dalle donne e dagli uomini che ne fanno parte come uno Stato democratico. Dal 2019 in avanti, quindi all'anno scorso, Erdogan, si sta industriando a Radelarsuolo questo esperimento, per cui è comunque, questo lo dico perché comunque lo abbiamo a che fare con un'entità politica straordinaria ma anche efemerica e quindi davvero forse è anche più semplice, anche più immediato collegare questa realtà con un'idea, quella che era un'idea di democrazia, un'idea di convivenza, di comunità così come sa fare in Wolf. E mi colpivano, poi mi sono avvicinata un pochino di più a questo genere di esperimento dopo aver ascoltato te Elisa, sono andata a rileggere delle tre dinè, io non sono, c'è da dire che io non sono una wolfiana come studiosa, è uno dei motivi per cui sono anche onorata di essere qua per quanto impropriamente, però sono una forte lettrice e sono una lettrice di Wolf della prima ora, per cui mi sono andata a ritendere alle tre dinè e in effetti di nuovo ho trovato una quantità di coincidenze e di ricorrenze abbastanza importanti che tornano per esempio anche nella rete che è nata in collegamento con l'esperimento del Rojava che è la rete gene, questa rete trasnazionale femminista che mette in pratica i principi di quella che viene definita genealogy, allora anche questo è interessante perché questa insistenza sulla rilevanza della lingua e sulla necessità di costruire una history che sia la storia di lei, per story, che diventi appunto una storia modellata sul femminile. Il termine stesso genealogy nasce da una mescolanza linguistica, anche qua torniamo a quello che dicevi tu prima Elisa sull'uso del kurdo perché gin è una parola kurda scritta col J, è una parola kurda che significa significativamente donna e vita, ha tutti e due questi significati. Accanto al kurdo c'è il greco di logos, che è appunto ragione, razionalità logica, che è un'altra delle caratteristiche di rado affiancate al femminile. Scorrendo, e vi invito a farlo se avete voglia di capire che cosa succede appunto nel femminismo contemporaneo e come si è costruita una rete, una linea di sviluppo che poi è rizomatica nel femminismo da Virginia Woolf a oggi. Scorrendo il sito trovo questo appello della rete gene dell'8 marzo, un appello che in realtà è stato messo online da una filiazione da un pezzo della rete gene, che è questa come la GeneN, che è un pezzetto della rete gene. In questo appello si legge non lottiamo le une separate dalle altre, lottiamo insieme. Quindi di nuovo quest'idea che vi sia appunto che la donna non appartenga, non appartenga a un contesto nazionale specifico, come citavi tu stessa prima, ma che vi sia un livello più alto di appartenenza che viene messo in atto attraverso una serie di principi che sono declinati un po' in tutti gli scritti di Ocalan, in particolare nel manifesto, un manifesto che comincia esattamente con l'affermazione che non è possibile pensare, neanche pensarla, un'idea di democrazia se prima non si liberano le donne, se prima non si migliora e non si interviene sul ruolo, sulla posizione delle donne, sulla posizione subalterna delle donne nella società. Allora, tutto questo materiale che insomma poi non mi dilungo ancora, però le citazioni da fare che sono, sarebbe proprio interessante affiancare citazioni dagli scritti di Ocalan che rappresentano la base della democrazia del Rojava e gli scritti di Virginia Woolf, perché le coincidenze, questo studio filologico non l'ho fatto, però le coincidenze sono davvero moltissime. È verissimo, sono sorprendenti alcune coincidenze, sembra davvero che lui l'abbia letta. Per esempio un'altra che mi era annotata, un'altra citazione ricavata sempre al manifesto di Ocalan, è vivere libera è impossibile senza una radicale rivoluzione delle donne, capace di modificare la vita e la mentalità degli uomini. Poi più avanti si dice la rivoluzione di genere non riguarda solo la donna, quindi anche questo è qualcosa che è Trinx Bell, nel senso che l'abbiamo già sentita ed è qualcosa che appartiene un po' al corredo genetico delle donne occidentali e nonna a partire dalle rivoluzioni degli anni settanta, nel senso che davvero appartiene a una fatica che abbiamo fatto, non individualmente ma collettivamente, senz'altro, e fa parte del tesoretto di libertà e di autonomia che dobbiamo in qualche modo proteggere. Allora, partendo da questo, poi inevitabilmente ho cercato di capire se questa disseminazione è involontaria, perché in realtà come te neanche io ho trovato riferimenti espliciti da nessuna parte, fatti dalle donne del Rojava a Virginia Woolf. Ci sono giornalisti che hanno passato il tempo con loro che in effetti parlano, fanno riferimento alla rilevanza delle teorizzazioni anche della pratica politica di Virginia Woolf, in un contesto ben specifico, però le donne del Rojava non risulta che abbiano tratto ispirazione specificamente a Virginia Woolf. Mi sono detta se nell'ambito che è un pochino di più frequento io, ovvero, sì certo, gender studies, ma gender studies applicati soprattutto a una produzione artistica letteraria che viene considerata popolare in senso dispregiativo. In realtà, secondo me, è popolare e basta, non in senso dispregiativo, ma è popolare nel senso che è più legata, più esplicemente legata al semifire popolare. Allora, lì dentro ho trovato altri due riferimenti che posso condividere qui, riferimenti che arrivano appunto dalla produzione creata dall'ambito della fantascienza, della fantascienza e della distopia, se vogliamo dirla in modo più fine, speculative fiction, però io penso che fantascienza sia, fantascienza si chiami, è possibile la chiamata che non ci sia nulla dispreggevole in questa denominazione. Allora, qua dentro in realtà ci sono due profili e due scritti che mi piacerebbe citare in questa sede e avvisami Elisa se vado troppo lunga, mi sembra che ci stiamo ancora dentro. No, 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 guarda, abbiamo ancora almeno mezz'oretta, quindi vai tranquilla. Allora, il primo scritto, perché primo cronologicamente che mi piace l'obesità era uno scritto molto poco conosciuto di una scrittrice molto poco conosciuta negli anni 70-80, quando un po' delle scrittrici che si occupavano di fantascienza e che militavano nel partito femminista sono comunque arrivate in Italia, però questa non ci è arrivata, ci è arrivata in ritardo ed era forse la scrittrice più ideologica e è di fatto ancora vivente, ovvero probabilmente il motivo per cui non l'abbiamo amata molto al di fuori del momento storico a cui apparteneva è che i suoi romanzi erano davvero legati tantissimo alle mobilitazioni femministe negli anni 70. Però Joanna Russ, perché questo è il nome della persona a cui faccio riferimento, della scrittrice a cui faccio riferimento, ha in realtà scritto forse cose più belle, più importanti in ambito saggistico, come era forse prevedibile, che in ambito narrativo e in particolare nell'83 lei scrive questo pamphlet che si chiama How to suppress women writing, che tra l'altro curiosamente è in uscita adesso in italiano per l'eciclopedia delle donne, doveva uscire in realtà tempo fa però il Covid ha un po' rallentato, ne ha rallentato la pubblicazione. Allora, che cos'è questo pamphlet? Questo pamphlet intanto dal punto di vista dell'impostazione somiglia moltissimo alle prese di posizione, agli iscritti di Virginia Woolf e in particolare alle tre finei, nel senso che Joanna Russ anche lei parte dalla sua esperienza personale di donna, estendendone la pertinenza a un ambito molto ampio, in un contesto sicuramente non nobile, cioè non considerato nobile, la letteratura di fantascienza, e fa una lista di una dozzina di strategie utilizzate per impedire alle donne di scrivere. Però è interessante perché queste strategie, queste forme di limitazione che vengono imposte alle donne sono, e qui invece penso, sebbene Woolf non sia nominata, che l'influsso di Woolf ci sia, in parte quelle che troviamo nelle tre finei, per esempio grandissima enfasi viene posta sulla mancanza, sull'impossibilità di accesso all'istruzione, all'istruzione superiore, grandissima importanza viene data, e Russ come dire la esplicita in modo anche molto ironico, al fatto di essere costrette comunque a vivere all'ombra di un uomo, per cui se una donna scrive nel settore distopia fantascienza, qualcosa di bello, immediatamente si sospetta che l'abbia scritto il marito, un po' la sindrome del Frankenstein per Mary Shelley, che per molto tempo si è pensato che in realtà non l'avesse scritto lei, o comunque fosse stato scritto o comunque revisionato dal marito. mi chiedono, un attimo che vi do il nome, Joanna Rass, e in realtà è molto interessante, allora Rass era molto nota e molto poco amata per essere estremamente aggressiva, lesbica, femminista, molto politica, ha scritto testi che sono estremamente duri nei confronti, e comunque era così che si doveva fare allora, tant'è che ha lasciato una traccia, e però nello stesso tempo è persona capace di cucire, di ricucire la tradizione della fantascienza a un orizzonte che è l'orizzonte della letteratura femminile, è provata a immaginare, nel senso che qua parliamo di un orizzonte invisibile, di una tradizione classica, quando parliamo di una tradizione letteraria e artistica femminile. La fantascienza dentro questa tradizione è ancora meno rilevante, la distopia è ancora meno rilevante, perché è un genere che nasce per uomini, ha nel suo corredo genetico appunto questo specifico scientifico tecnologico che taglia fuori gli uomini. In questo contesto Gianna Rass appunto codifica in un pamphlet, che spero che adesso abbia una nuova circolazione, una serie di ragioni che rendono conto appunto dell'esclusione delle donne, agganciando questa esclusione all'esclusione di altre donne, di donne che appartenevano, che scrivevano un'esperatura cosiddetta mainstream e che hanno subito lo stesso tipo di trattamento. E secondo me la cosa più interessante, no non è la cosa più interessante, però la cosa che mi ha colpito di fronte a un personaggio così duro, così solitario, anche una donna così decisa a combattere da sola e incapace di arrendersi, è che nell'ultima parte del saggio lei ricostruisce, come le donne del Rojava, ricostruisce la rete della sorrellanza femminile. Cioè l'unica cosa più che possiamo contare è proprio questa capacità e possibilità che abbiamo di combattere insieme e l'ultima frase del pamphlet è, se ricordo bene, now you finish it. Cioè è proprio un'interpellazione a chi legge. Adesso io ho fatto la mia parte, adesso questo è un testo aperto e voi dovete finirlo. Questo nell'83 che anno siamo, adesso nel 2020, stiamo ancora discutendo delle stesse identiche cose. Sì. Posso proprio ti interrompo solo per puntualizzare questa cosa, cioè qui oltre alle tre guine mi sembra proprio la fine della stanza tutta per sé, in cui Wolf dice va bene, però adesso noi dobbiamo lavorare affinché se dovesse tornare una poetessa come la sorella di Shakespeare che lei aveva immaginato precedentemente nel saggio e nelle sue lezioni che aveva tenuto, noi dobbiamo lavorare affinché lei possa vivere e possa scrivere poesia. Quindi mi sembra proprio che l'idea sia come se avessero raccolto questo invito a fare per le altre e che infatti si trova poi in quello che fanno le donne in Rojava. Visto che tu giustamente parlavi dell'importanza della genealogie che è una materia che viene insegnata nelle università adesso, quindi le donne possono conoscere le altre donne, quindi davvero quel senso di genealogia che Wolf promuoveva anche nei suoi scritti, sia nella stanza sia soprattutto nella stanza tutta per sé, ma lo troviamo anche nelle tre guine, questa idea dell'importanza di una tradizione femminile alle nostre spalle che ci insegni a pensare in modo altro, cioè con uno sguardo altro rispetto a quello standard normalizzato e volevo solo dare questo dato per chi conosce poco la realtà del Rojava, da quando c'è stata la liberazione, quando le donne si sono organizzate, sono state fondate due università e 26 centri per l'istruzione delle donne, quindi hanno messo davvero al centro l'istruzione che è uno dei pilastri fra l'altro, sia nella stanza, ma soprattutto nelle tre guine, la prima guinea Wolf la stende per ristrutturare il college femminile, perché l'istruzione è la base di tutto, cioè se noi non ci conosciamo, non conosciamo noi stesse, non conosciamo chi è venuto prima di noi, non possiamo capirci fino in fondo e dobbiamo essere educate per essere in grado di pensare, che questo è poi un altro punto fondamentale. Quindi trovo anche molto interessante che tu ci abbia citato, Joanna Rast, che ci dà la possibilità di vedere come questo invito sia stato raccolto da altre scrittrici e come sia possibile conoscere attraverso queste letture che sono più insolite rispetto a quelle che troviamo sui banchi in libreria, ecco. Sì, io credo che non solo siano insolite, ma siano proprio un anello di congiunzione importante, nel senso che altrimenti il femminismo rischia di essere quello che Angela Davis chiama glass ceiling feminism, questo femminismo di donne che comunque hanno sempre avuto accesso a disposizione, hanno finito la formazione, sono in grado di ragionare su Virginia Woolf, allora ci vuole un tramite che ricuscia questo tipo di situazione a una situazione che invece nasce dalla base, a una rivolta che nasce assolutamente dalla base. Però quello che succede negli anni 70, quello che dico che Joanna Rast secondo me la conosceva, la conosceva a Virginia Woolf, non la nomina, ma la conosceva assolutamente, non la nomina come referente teorica, insomma, poi nel testo in realtà la nomina, come scrittrice inevitabilmente. E come lei, insomma, l'altro esempio che mi piaceva fare è quello di Ursula Le Guin, la stessa generazione, lo stesso tipo di appartenenza, la stessa collocazione dentro il femminismo americano degli anni 70, con uno specifico riferimento alle narrazioni fantascientifiche, distopiche o di narrativa speculativa, e anche lei, lei invece fa un riferimento ben più specifico a Virginia Woolf, nel senso che, te ne parlavamo, Elisa, nel senso che c'è questo piccolo saggio, anche Le Guin è stata molto prodiga nella scrittura di saggi e lei ha proprio rappresentato proprio la possibilità di accesso delle donne con meno formazione a una tradizione culturale letteraria alta, alla quale queste donne magari da sole non sarebbero arrivate, cioè non sarebbero arrivate a identificare le letture che dovevano fare, per cui di Virginia Woolf erano molto noti romanzi, però per esempio Le Guin ha fatto un lavoro molto specifico di divulgazione e di disseminazione delle opere saggistiche di Woolf e in particolare delle tre guinee in modo specifico. Allora, il saggetto a cui faccio riferimento di Le Guin, anche questo magari lo scrivo perché può essere utile, è un saggio che si chiama The Career Bad Theory of Fiction. che è un saggio di poche pagine, 5 o 6 pagine, che io pensavo che non fosse, la mia ignoranza pensavo che non fosse mai stato pubblicato in italiano, in realtà mi diceva, se non sbaglio me lo diceva Magna Rosa Cutrofelli, che era la direttora di Tutte Storie, che è stato pubblicato a un certo punto proprio su Tutte Storie, in traduzione italiana. Allora, è un saggio che parte da una serie di considerazioni legate a chi fa la storia, no? E Le Guin dice, noi siamo abituati a interagire con una storia che prevede la presenza di un padre maschio, che è soprattutto un cacciatore e questo sulla base di questa operazione aggressiva di appropriazione dell'ambiente e motivata con necessità di sopravvivenza che ben presto sono diventate insostenibili, noi abbiamo costruito un'ipotesi di storia occidentale. In realtà, lei dice, già Virginia Woolf aveva messo in discussione l'idea di eroe e in questo glossario del quale avevo chiesto notizia a Elisa, e mi scuso ma è una cosa che devo ancora ricostruire e capire dove trovarla, in questo glossario lei affianca la parola eroe alla parola botulismo e ne conclude che l'eroe è una bottiglia, un contenitore, un contenitore che contiene tutti i principi fondanti dell'umanità, di quello che si ritiene pregevole nell'umanità. Le Guin dice, io valuterei di più il contenitore che il concetto stesso di eroe e questo contenitore lo trasformerei in una borsa e questa borsa contiene le storie e queste storie, le storie che vale la pena di raccontare, sono le storie agite dalle donne, agite quindi con un atteggiamento assolutamente diverso, non di appropriazione, non di sopraffazione, non di colonizzazione, ma di catalogazione e di raccolta, proprio di raccolta delle storie, perché le storie ci aiutano a vivere. Quindi c'è un'idea di memoria, c'è un'idea di difesa, di protezione, che è un po' la stessa idea che sta alla base della democrazia di Rochava, di nuovo, queste idee che ci sono certo dei corpi armati femminili, però il nome di questi corpi armati significa proprio unità di protezione delle donne, il nome indica assolutamente un'attitudine, un atteggiamento difensivo piuttosto che un atteggiamento aggressivo. e questo tipo, dice Le Guin, questo tipo, la valutazione di una storia di questo tipo, non più basata sulla figura dell'eroe, ma basata sulla figura della donna che sta presso all'eroe e raccoglie le storie, attraverso quelle storie mantiene la memoria, attraverso quelle storie consente di affrontare la realtà non in modo aggressivo, ma dando la possibilità di creare una rete, attraverso queste storie è possibile costruire una civiltà di tipo diverso. Allora, è interessante, perché questa è esattamente la stessa affermazione su cui si basa, una delle affermazioni su cui si basa la democrazia di Rochava, e secondo aspetto, anche Le Guin, come la Costituzione di Rochava, fa riferimento, comprende in questa nozione di rispetto anche all'ambiente. Anche lei dice che dobbiamo far pace con lo spazio nel quale abitiamo, perché questo spazio è uno spazio senziente, uno spazio vitale, uno spazio con il quale dobbiamo stabilire una relazione anche di rispetto reciproco. E qua si chiude un po' il cerchio che volevo creare raccontandovi queste cose, perché questo saggio di Le Guin, che era stato pubblicato nell'86, quindi un anno dopo il manifesto cyborg di Donna Haraway, che è un altro filastro del femminismo contemporaneo, allora questo saggio viene ristampato oggi, nel 2020, in forma di librino, con una lunga prefazione proprio di Donna Haraway, che nota appunto come donna e ambiente si rimpuciano in questo modo, in un'idea possibile, anzi, secondo lei è l'unica idea possibile per sopravvivere nel caos, che è la solidarietà, una solidarietà che segue le regole delle donne. Sì, qua mi fermerei, perché ho già detto, fatto un gran minestrone, ma magari a volte vengono fuori cose buone. No, 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 assolutamente nessun minestrone, solo tante idee invece, che insomma io credo che sia l'idea alla base di questo faro, anche come diceva Raffaele in apertura, è proprio raccogliere e condividere idee per aiutarci a pensare, no? Wolf dice We must never steal from thinking, cioè non dobbiamo mai smettere di pensare, è thinking is my fighting, lo scrive sul diario, e questo è un altro degli insegnamenti chiave e dei punti chiave di queste donne che hanno preso in mano le proprie sorti, le sorti del territorio in cui vivevano e hanno deciso di liberarsi, no? Cioè il pensiero. Però volevo fare un altro aggancio che credo sia importante, perché pensare alle rivoluzionari, a chi lotta, insomma chi imbraccia le armi e pensare poi al saggio di Wolf, che è invece un inno al pacifismo, può creare confusione, dire ma come lei era contraria alla lotta, perché cosa ci sarebbe di in comune con quello che stanno facendo queste donne? Quello che dicevi tu, che spiegavi il nome stesso, l'acronimo stesso YPJ sta per fronte di autodifesa femminile, cioè unità di autodifesa femminile, scusami, e prima accennavo a questa teoria della rosa, loro dicono la rosa è un fiore che si autodifende, no? Con i suoi petali chiude la parte importante che è quella che serve per fecondarsi e per fecondare, con le spine lungo lo stelo si difende, quindi non ha bisogno di attaccare, pensa solo a non farsi attaccare e questo è il pensiero alla base di queste unità di autodifesa e dicono chiaramente il nostro scopo non è distruggere il nemico, ma forzarlo ad abbandonare le proprie intenzioni ad attaccare. E quindi io qui trovo il riferimento, loro dicono se noi potessimo inserire, cioè Wolf dice se noi potessimo inserire le donne nelle università e dare loro la possibilità di insegnare la storia, di insegnare a pensare, le donne insegnerebbero a non osannare la guerra, non osannare la lotta, no? Invece dice oggi invece la guerra è considerata una professione, a source of happiness and excitement, dice Wolf, cioè una fonte di felicità e eccitazione. Ecco, lei dice se invece ci fossero le donne a insegnare insieme agli uomini insegneremmo che non dobbiamo vedere la guerra in questo modo, la dobbiamo vedere in modo diverso. E io qui trovo l'altro grande punto di contatto, no? Cioè questa autodifesa che voglia cambiare le intenzioni del nemico e non lo voglia distruggere. Penso sia una delle cose più belle di quello che stanno facendo queste donne e che ha permesso, penso alla vittoria che aveva avuto a Frin sull'Isis e che adesso, ahimè, è tornata invece sotto il dominio dell'Isis, proprio perché non ammazzano i loro nemici, li avevano semplicemente catturati insomma come prigionieri di guerra e quindi ovviamente adesso che l'Isis sta prendendo di nuovo il potere non hanno la forza necessaria per reprimerlo e sta tornando in forza e quindi anche per questo è importante parlarne. Chiederei se ci sono domande di farle anche perché appunto abbiamo ancora poco meno di dieci minuti e poi la nostra diretta si interrompe. In attesa delle domande, ecco, no, guardate, c'è Laura Bruschetta dice, penso che in fondo il femminismo è stato l'unico movimento rivoluzionario che non ha utilizzato la forma della guerra. Eh sì, è stato anche l'unico movimento che ha indotto, probabilmente, che ha indotto a prodotto una serie di scritti che inducevano a riflettere sul fatto che noi, questo dice Le Guin, noi apparteniamo a una storia di omicidio, killer story, dice lei, no, per cui questa cosa anche di riuscire a dichiarare che un percorso formativo come quello al quale apparteniamo e che viene normalmente messo in atto porta naturalmente a una storia che è basata sul criterio dell'omicidio, invece il femminismo propone, sì, a partire da Vulti in avanti, propone con varie modalità una storia che è fatta, che è proprio edificata sulla rete, no, su quella che poi Haraway in tempi recenti ha chiamato simpoiesi, ma sono sempre termini che si rincorrono e che conducono alla stessa forma di appartenenza, un'appartenenza paritaria, solidale, dove al massimo appunto, questo questo, Elisa, tu hai perfettamente ragione, dove al massimo viene messa in ballo, in gioco, la capacità di difendersi, questa forse è la novità più importante non solo del Rojava, ma anche, mi sembra, delle caratteristiche del giovane femminismo contemporaneo, no, che sono comunque donne non necessariamente, o ragazze non necessariamente, che non coltivano assolutamente un'idea di aggressività, ma che comunque si mettono nelle condizioni di potersi difendere, ecco, questo sì. Ecco, io approfitterei a questo punto per almeno nominare il tuo ultimo romanzo, che è edito da 1992, e dovevamo presentarlo, e poi invece di tutto è successo, si intitola Avrà i miei occhi e in fondo parla, ora ovviamente non parla di Rojava, non c'entra assolutamente niente, ma parla dell'importanza di fare rete anche in una situazione totalmente distotica, no, è ambientata in una Milano che quando lo lessi sembrava irreale, surreale, impossibile, irrealizzabile, e due mesi dopo era esattamente così, perché è una Milano deserta, una Milano con le strade vuote, quindi mi aveva molto colpita, ma dove ci sono donne rese oggetti, dove c'è il corpo femminile sfruttato, non voglio dire troppo, quindi magari… No, 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 ci sono in realtà dei collegamenti, e naturalmente mi fa piacere che lo nominiamo il romanzo, ma non sono così autoreferenziale da volerlo infilare dentro per forza, però ci sono dei riferimenti, perché poi all'interno del romanzo Woolf è citata anche come… ci è finita dentro, nel senso che in realtà ci arriva attraverso un dipinto, e però l'idea di ragionare sul corpo femminile e su temi che sono cari, non solo Woolf, ma al pensiero femminista, era molto… insomma era la base del romanzo, che è un romanzo sul femminicidio, per cui c'è uno slittamento di contestualizzazione, nel senso che siamo in un'ipotetica distopia leggermente futura rispetto all'oggi, ma come notavi tu stessa siamo molto vicini a quello che stiamo vivendo. Spaventosamente, sì. Per cui sono in un'ipotetica dove il ragionamento sul femminicidio è fatto trasformando il corpo femminile in oggetti, per cui i corpi che aprono il romanzo sono cose, ma poi in realtà non sappiamo nulla della vita delle cose, ma poi in realtà è vero che la donna che è oggetto di violenza, che subisce violenza è una cosa, diventa una cosa, cioè la violenza autorizzata proprio perché non viene conferito a quel corpo lo status di essere umano, mentre invece è umano, è il violentatore, il brutalizzatore che al massimo ha avuto un raptus, come se è raptus. Esatto. Mi sembrava importante, sembra a proposto dell'idea di letteratura fare un ragionamento su questo, ed è un ragionamento che pertiene alle donne, pertiene alla mia convinzione assolutamente femminista, che certi argomenti sono un po' portarli in modo un po' più evidente, in superficie ciascuno con gli strumenti che ha, per cui c'entra un pochino questa storia che io racconto. Allora abbiamo un commento di Liliana Rampello, ma che se vuole ce lo legge lei in diretta. Eccoti Liliana. Il microfono mi sembra, il microfono. Ok. No, aspetta, ti ammuto io, vai, vai. Mi sentite adesso? Sì. No, dicevo che è stato tutto molto interessante, ma la cosa che mi colpisce proprio moltissimo è che i ragionamenti fatti funzionano molto bene se si tiene presente che in Wolf la differenza fra i sessi è molto, molto precisa, chiara e radicata. Perché mi veniva in mente che quando invece le donne si fanno soldato, diventano mimetiche degli uomini, si arriva a Bugraib, che è stato secondo me l'esempio più eclatante di come il mimetismo rafforzi la parte peggiore, diciamo, di un sesso nei confronti dell'altro. Mi chiedevo se quest'idea proprio della differenza che in lei è così profonda, a partire ovviamente anche da tutto quello che dice sull'istruzione nelle tre guine, ovviamente, ma che la radice insomma di questa possibilità di avere uno sguardo altro è se noi accettiamo che i sessi sono due, perché se uno diventa mimetico dell'altro si va verso il disastro, credo, in tutti i campi. No, secondo me questo tentativo di trasformare le donne del Rojava in, appunto, imitazioni dei guerrieri maschi è stato fatto in modo molto palese dai media, nel senso che c'è stato un momento che riuscivano anche sulle riviste femminili queste immagini di donne indivise. E questa è la cosa importante del ragionamento fatto oggi? Questo è orribile, certamente non è l'idea da cui nasce questo tipo di rotta, però è molto brutto l'idea di quello che tu dici, nel senso che nelle culture popolari, nella cultura, nella quotidianità della cultura, quello che noi facciamo è ricondurre, normalizzare quello che ci sembra non normale, per cui le donne del Rojava sono Marines. Esatto, infatti Nicola, per questo mi sembra che il ragionamento fatto oggi è stato molto importante, perché sennò passa l'altra idea. Scusami, una piccola cosa e poi ti passo la parola a Elisa, è già successo nel senso che sempre tornando al femminismo degli anni settanta nella fantascienza, le donne che scrivevano fantascienza erano definite esplicitamente, come sono detto Heinlein, poi scout con le tette, per cui di nuovo c'è questa traslitterazione, se io faccio qualcosa che è tipico di un uomo, o sono lesbica, o sono un boy scout, una donna attraversita un boy scout, oppure sono un Marines, una donna attraversita un Marines, c'è escluso che abbia un'identità. o addirittura peggio, quello che hanno fatto i media è stato anche definirle le Ocalan's Angels, per cui poi si chiedevano, ma in trincea mettete il rossetto? Cosa che invece loro, proprio a proposito dell'importanza della differenza e dell'importanza di guardare al mondo e al pensare e all'interpretare la difesa, lo stato, l'ambiente eccetera eccetera, partendo da un punto di vista femminile, loro ci tengono a mostrare che hanno ad esempio che si acconciano i capelli, che hanno i capelli lunghi e che vogliono usare sciarpe colorate, perché vogliono mantenere la propria identità di donna. Poi è chiaro che se sono sulle montagne, che imbraccio il fucile per proteggere il mio territorio, non è che avrò le scarpe col tacco, però è anche vero che non è la scarpa col tacco a definire l'essere donna, breaking news. Però è veramente, io credo che questo sia, cioè è stato proprio questo l'origine del mio pensiero, cioè leggere, aver letto le tre dinese, essermi informata su quello che succedeva in Rojava e poi leggere come se ne parlava nei media e dire no vabbè ma scusate, c'è una discrepanza totale, cioè stiamo parlando di universi diversi, cioè quello che è fondamentale per le donne del Rojava e nel pensiero filosofico stesso dell'esistenza di queste donne, di questi territori, è tutt'altro rispetto a quello che ci viene raccontato e mi aiutava a comprenderlo, mi aiutava a conoscere Wolf, perché mi aiutava a capire quanto fosse fondamentale il pensare a una società delle strane, il pensare a mettere al centro l'educazione, il pensare a guardare il mondo con lo sguardo di donna e al pensare alle pari opportunità, non come le quote rosa o il 50-50, ma il dare il giusto spazio alla presenza femminile, attenzione, quello che hanno fatto nella Repubblica del Rojava è stato creare dei ruoli apposta per le donne nella politica, che non fosse quindi prendere il ruolo dell'uomo e metterci una donna, ma il dire cosa può aggiungere la donna col suo sapere, col suo bagaglio di sapere di culture e di tradizione e creare anche ruoli adatti, quindi è proprio un modo diverso di vedere la politica, io credo che questa sia la vera rivoluzione e che può confermare il potere, la potenza del pensiero del pensiero di Woolf nel 1938, ricordiamoci perché lei lo scrive nel 1938. Dovresti dirci Elisa magari il libro più importante che hai letto sulla Rojava? Ho letto, sì, dovrei andare a riguardarmi tutti i vari titoli, perché ho letto soprattutto saggi che raccontavano, però una è forse proprio la ripresa del Rojava. Puoi passare a Raffaella, poi Raffaella. Li metterò nei commenti per ricordarmi i vari titoli, perché davvero ne ho letto. Se andate sul sito della rete GIN, ci sono anche svariate bibliografie per raccogliere informazioni su questo. Molti testi li hanno caricati proprio in copyleft assolutamente gratuiti e altre cose le consigliano. Metto solo questo commento di Giovanna Buffa che dice che il femminismo è spesso portatore solo di denuncia di sopruso. Mi è piaciuto ascoltarvi oggi perché abbiamo parlato di femminismo che fa, che costruisce cose proprie senza ricriminazioni. Ma lo fa spesso il femminismo, solo che ci piace raccontarne solo una parte, ma in realtà la storia del femminismo è fatta di una bellissima rete di ascolto e di empowerment, di potenziamento dell'altra. Io penso che anche queste occasioni ne siano un po' l'esempio. Io chiuderei, visto che siamo già a quasi 55 minuti, quindi volevamo rimanere sotto l'ora, e ringrazio tantissimo Nicoletta, ringrazio Liliana per le tue domande e ti tolgo intanto dal video e ringrazio tantissimo Nicoletta per aver accoltato e accolto il nostro invito e aver portato un contributo, un punto di vista finalmente non solo golfiano e quindi questo è assolutamente prezioso per veramente allargare i nostri orizzonti. Grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 16, quindi alle 4 del pomeriggio, con i personaggi in guerra, Liliana Rampello e Sara Sullam in conversazione. Buona fine mattinata e a più tardi. Grazie.